La cività vecchia che immagina Giovanni Moscherini tra cinque, tra dieci anni, chiudendo gli occhi, qual è? Com'è questa cività vecchia? La cività vecchia del futuro deve essere una cività vecchia, capitale della logistica, merci e passeggeri del Mediterraneo, deve acquisire un ruolo stabile di anello di congiunzione tra la Cina e l'Africa e facciamo l'anello di congiunzione tra i nostri prodotti, la cui parte più povera è stata trasferita dalle imprese italiane in Cina. Con il nostro retroporto possiamo fare, e ora mi fai dire un'idea rivoluzionaria che sicuramente qualcuno mi copierà, comunque non mi frega niente. Io per esempio avevo l'idea che fatto il terminal Cina si trasferissero a Cività Vecchia nel retroporto, anche nelle aree tarpinesi che sono tutte pianeggianti, trasformate in aree industriali per far tornare per l'ultima fase della produzione dei prodotti italiani che oggi fanno in gran parte in Cina, ritornare a Roma e fare per la prima volta nel mondo prodotti a doppio marchio, marchio di qualità italo-cinese. Ma non solo, il turismo, quelli sono un miliardo e mezzo, non è che se i cinesi si aumentano lo stipendio o guadagnano due lire di più se li stanno a guardare lo specchio in Cina, perché anche in Italia il turismo cinese, ma anche sulle navi da crociera, è aumentato considerevolmente. L'aeroporto di Tarquinia poteva essere ricostruito dai cinesi per fare il ponte Cina-Europa-Africa. Il futuro di Cività Vecchia deve essere pensato sempre in una ricongiunzione porto e città. E se si parla di argomenti, cultura, agricoltura, archeologia, non può essere fermo a Cività Vecchia, a Tarquinia. No! Occorre un tavolo di costruzione di progetti specifici dove sono coinvolti tutti i potenziali protagonisti.